Il comune di San Fratello, quale borgo dell'area dei Nebro di Sicilia Nord, parteciperà con i comuni di Alcaralifusi, Galatimamertino, San Marco d'Alunzio, San Salvatore di Fitalia, Caprileone, Militello Rosmarino ad un bando proposto dal Ministero degli Affari Esteri e Cooperazione Internazionale sul Radici Nebro di Experience 2024. Il comune capofila e Alcaralifusi e per quel che concerne San Fratello si tratta di valorizzare quanto offre il territorio, cultura, eventi, ambiente con iniziative per sollicitare il ritorno degli emigrati, dal trekking urbano e naturalistico all'apertura tra le altre della Chiesa del Convento, il Chiostro Francescano, la Chiesa dei Tre Santi al Monte Vecchio, quella della Madonna delle Grazie, il Museo Etnostorico Antropologico, la Biblioteca del Seicento, ai Riti della Settimana Santa, tutto questo per assicurare una nuova economia anche in prospettiva occupazionale e da un'iniziativa che potrebbe determinare importanti sviluppi per l'esecutivo di Giuseppe Princiotta, un'altra legata al programma triennale delle opere pubbliche del Comune Montano 2024-2026. Sono 59 le opere inserite nel piano per un importo complessivo di oltre 70 milioni di euro, di queste 12 sono inserite nella prima annualità. Infine, riguardo ai progetti di democrazia partecipata, l'esecutiva ha dato un seguito al progetto proposto dalla Proloco per 14 mila euro che sarà indirizzato per l'intrattenimento in occasione del Carnevale e dunque secondo l'indirizzo dello sviluppo economico e turismo. Le altre direttive per i progetti di democrazia partecipata riguardavano anche le politiche giovanili, spazi e aree verdi, le attività sociali, scolastiche, educative, sportive e religiose.